Capitale è blindatissima, un enorme dispiegamento di forze dell'ordine. Così si presentava a Roma il 26 marzo, in occasione dell'arrivo di Barack Obama in Italia. Imponenti misure di sicurezza tra blindati e agenti dell'antiterrorismo, soprattutto davanti Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano John Phillips, dove ha alloggiato il presidente degli Stati Uniti. Cinofili e artificieri hanno bonificato Viale Rossini, già chiuso al traffico, per scongiurare ogni possibile attentato. Presenti anche 200 agenti americani e 10 aerei. Come mostrano queste immagini inequivocabili, una Roma passata al setaccio dagli agenti, soprattutto nei possibili percorsi in cui sarebbe potuto passare il presidente degli Stati Uniti d'America, Obama. Blindati in ogni angolo della strada, con particolare attenzione al centro storico, dove il presidente si è recato per una visita al Colosseo. Molte strade sono state chiuse e soppresse anche fermate di autobus e tram. Di vieto di sosta in alcune zone della capitale, rischio di traffico intenso e massima allerta per il Policlinico Gemelli, pronto ad intervenire in caso di emergenza. Nel frattempo cresceva la tensione in aeroporto, dove Obama è atterrato con un volo Air Force One alle 21.20, con mezz'ora di ritardo rispetto alle previsioni. Poi il solenne atterraggio all'aeroporto romano di Fiumicino.